Vado d'accordo? No, assolutamente no, assolutamente no. Semplicemente se tengo una distanza l'uno all'altro. Andiamo dentro. Dando tu dormi adesso mi calvelle. Si tu sei lì, tu aspetta, tu aspetta. Monta sopra. Si, come no, seguro che tu aspetta. Dando un chate de camere. No, si, è lui che ti conmiché. Mi capito. T'aspetta, si muero. Quasi, quasi, quasi. Quasi sentito. Quasi. Existe un po' di volta. Sì. Ero che un bongolo ci conviene eh, voglio fare la foto? sì, adesso un attimo è caldo poi si scappa fuori dopo ha alzato la testa per vedere com'era? no, ha alzato la testa per respirare qui ce n'è solo uno sì, quanti ce n'abbiamo stato? perché loro sono territoriali che ce n'estano due e si fanno la guerra ma è piccolo come spazio ecco apposta